Ben trovati ragazzi, continuiamo a parlare di storia della vita sulla Terra e lo facciamo anche aiutandoci con questo disegno che è un po' una sorta di rappresentazione grafica di quelle che sono state le epoche geologiche che si sono succedute a partire dall'origine del pianeta Terra stesso, che è databile intorno ai 4,6 miliardi di anni fa. Nell'ultima lezione abbiamo parlato appunto dell'origine della Terra, abbiamo parlato anche di come si suppone si sia originata l'acqua liquida nella quale poi è nata la vita sul pianeta Terra stesso, poi della comparsa dei primi esseri eventi per quello che ne sappiamo noi, per i dati che abbiamo a disposizione 3,7 miliardi di anni fa e poi abbiamo parlato anche della comparsa della fotosintesi ossigenica che ha fatto salire piano piano un po' alla volta il tenore di ossigeno all'interno dell'atmosfera creando un pianeta completamente diverso rispetto a quello che c'era prima. E poi abbiamo chiuso la lezione precedente parlando di origine delle cellule eucariote che sono arrivate dopo le cellule procariote che invece sono molto più semplici. Ed è da qui che ripartiamo, però prima vedremo che durante queste ultime due lezioni che ci mancano per finire l'argomento andremo ad analizzare un po' alcune di queste epoche che vedete qui succedersi perché alcune di queste sono state il teatro di eventi veramente molto importanti per quello che riguarda la storia della vita. Notate una cosa, che il Precambriano, che è l'epoca che va dall'origine della Terra fino al mezzo miliardo di anni fa, 550 milioni, occupa gran parte della storia della vita sulla Terra. A partire dal Cambriano, vediamo qui 540 milioni di anni fa circa, comincia il Paleozoico, detta anche epoca primaria, poi abbiamo il Mesozoico, l'era secondaria, che è sostanzialmente l'era dei dinosauri, e poi c'è il Cenozoico o epoca terziaria. Ciascuna di queste epoche è suddivisa a sua volta in periodi più o meno lunghi caratterizzati da situazioni e circostanze diverse rispetto a quelli precedenti e quelli successivi. Allora, noi eravamo arrivati qui proprio a parlare della comparsa dei primi eucarioti, c'è un momento nella storia della vita sulla Terra in cui le cellule procariote diventano, una parte di loro diventa cellule eucariote, però per molto tempo ci si è interrogati su come questo passaggio possa essere avvenuto. Innanzitutto non dimentichiamo, questo lo sapete già, che i procarioti sono cellule molto semplici, fornite di una membrana e poi vedremo anche di un ulteriore rivestimento detta parete cellulare, ma quello che conta è che sono cellule molto rudimentali, sono le prime a essere comparse sulla Terra, hanno il materiale genetico organizzato in un unico lungo filamento di DNA e poco altro. Le cellule eucariote invece sono molto più strutturate, sono molto più complesse, lo sappiamo, hanno un nucleo delimitato da una membrana che separa il nucleo stesso dal resto della cellula, dal citoplasma, vedete questo qui è il nucleo, lo indichiamo con una lettera N e qui invece in una lettera C mettiamo il citoplasma all'interno del quale esistono degli organuli delimitati da membrana, ciascuno dei quali A svolge una precisa funzione. Allora, come si è passati dai procarioti agli eucarioti? Beh, qui sicuramente l'ipotesi più accreditata è quella della biologa americana Lynn Margulis, una donna a cui vita ha attraversato buona parte del XX secolo e che intorno agli anni Ottanta di questo stesso secolo ha formulato la sua teoria endosimbiontica, una teoria che poi vedremo ha anche dei riscontri in qualche modo sperimentali, ci sono delle prove fornite a supporto, è stata una teoria inizialmente un po' non accettata dalla comunità scientifica ma poi piano piano vedremo che ci sono delle circostanze che hanno in qualche modo fatto pensare che possa essere stata questa la strada che ha portato dai procarioti agli eucarioti, effettivamente. Allora si parte da un procariote ancestrale, d'accordo, quindi una cellula molto semplice e priva di nucleo, all'interno della quale si è verificata una sorta di introflessione della membrana cellulare che è una serie di introflessioni che ha portato alla delimitazione del materiale genetico in una zona più o meno centrale della cellula e che poi si diventerà separata dalla cellula stessa ed è quello che è il protonucleo, possiamo chiamarlo così, che vedete in questa rappresentazione. Poi però è successo qualcos'altro perché abbiamo visto che la cellula eucariota non ha solo il nucleo che la distingue dalla cellula procariota ha anche degli organuli delimitati da membrana che si trovano nel citoplasma. Qui a quanto pare si è verificato un feromino di fagocitosi, cioè il procariote ancestrale ha fagocitato, si è letteralmente nutrito di altri procarioti i quali però per una serie di circostanze particolari non sono stati in qualche modo degradati per ricavarne energia ma sono diventati un qualcosa di strutturale nella cellula stessa, cioè è venuta a crearsi una simbiosi tra la cellula che ha fagocitato e i batteri che sono stati fagocitati. Per spiegarvi meglio quello che stiamo dicendo proviamo ad andare sulla tavoletta grafica dove è riportata la stessa identica diapositiva. Vedete qua c'è un cianobatterio, i cianobatteri dovete sapere cosa sono, lo abbiamo detto nell'ultima lezione, sono le prime cellule procariote responsabili della fotosintesi clorofiliana il processo fotosintetico è cominciato con loro sul pianeta Terra e quindi sono cellule che hanno la capacità di prendere composti a basso contenuto energetico come l'acqua e l'anidite carbonica e con l'ausilio, utilizzando come intermezzo energetico la luce solare, di trasformarla in glucosio, C6H12O6 e ossigeno. Allora il C6H12O6 è glucosio ed è un composto ricco di energia sotto forma naturalmente di composto chimico. Evidentemente deve essere successo qualcosa di questo tipo, la cellula che ha fagocitato in qualche modo ha mantenuto il cianobatterio al suo interno perché si è installato una sorta di mutuo scambio di favori, nel senso che ad esempio il cianobatterio era in grado di fornire materia organica a partire dalla luce alla cellula stessa. Evidentemente il cianobatterio invece si trovava in un ambiente un po' più protetto questo poteva essere la moneta di scambio. Poi è successa anche un'altra cosa, probabilmente c'è stata anche una fagocitosi di organismi di batteri eterotrofi, cioè che erano in grado di prendere il glucosio e di fare il processo esattamente contrario alla fotosintesi che si chiama respirazione cellulare, quindi di prendere il glucosio, in qualche modo di farlo reagire con l'ossigeno e di trasformarlo in CO2 e acqua ricavandone energia. Ecco, evidentemente alla cellula ancestrale prokaryote ha fatto molto comodo mantenere questi organismi fagocitati perché si sono trasformati rispettivamente in organoli in grado di sintetizzare sostanza organica e in grado anche di degradarla, di fornire energia alla cellula. Questi organoli, torniamo al PowerPoint, sono oggi chiamati cloroplasti e mitocondri. Li vedremo meglio quando affronteremo il tema della cellula a fine anno, ma in generale i cloroplasti sono questi organoli si trovano nel citoplasma delle cellule vegetali, delimitati da una loro membrana all'interno delle quali avviene la fotosintesi clorofiliana, mentre i mitocondri che sono presenti in tutte le cellule eucariote, sia autotrofe che eterotrofe, quindi sia negli animali che nei vegetali, sono devoluti, sono incaricati di compiere la respirazione cellulare, quindi di prendere il glucosio e di ricavarne energia attraverso l'ossidazione, appunto in presenza di ossigeno. Una prova a supporto del fatto che questi potessero essere antichi batteri fagocitati sta nel fatto che entrambi contengono frammenti di DNA e sta anche nel fatto che hanno delle dimensioni assolutamente compatibili con i batteri di oggi, se ci giriamo insomma, le ordine di grandezza sono quelli del micron, d'accordo? Quindi millesimo di millimetro. Benissimo, a un certo punto però cosa accade? Accade che per molto tempo, quindi noi stiamo parlando di un pianeta sul quale per tantissimo tempo, fino a 800 milioni di anni fa, la vita era sotto forma di vita unicellulare fondamentalmente in acqua, quindi negli oceani e nei bacini di acqua dolce. 800 milioni di anni fa accade un altro fatto rilevante che fu il passaggio alla vita pluricellulare, che non fu un passaggio semplice e immediato, perché vedete, passare dalla vita unicellulare alla vita pluricellulare comporta una serie di circostanze che si devono verificare. Innanzitutto qui vedete l'immagine di un batterio, mentre qui vedete l'immagine di una colonia di batteri. Una colonia che cos'è? È un aggregato di cellule che collaborano tra di loro scambiandosi energia e sostanze nutritive, d'accordo? Che però rimangono individui separati. Rimangono individui separati. Cosa differenzia una colonia di organismi unicellulari da organismi pluricellulari? La risposta è piuttosto semplice. Gli organismi pluricellulari, come i primi animali ad esempio, erano organismi nei quali le cellule erano sì aggregate tutte insieme, collaboravano sì tutte insieme, ma svolgendo funzioni diverse a seconda del luogo della posizione in cui si trovavano nell'organismo e che nel loro complesso rappresentavano un unico organismo, d'accordo? Sono comparse così le alghe pluricellulari, sono comparse le spugne che fanno parte di un gruppo di animali molto primitivi che si sono crinidari e sono comparse le meduse. Diciamo che le spugne meduse sono i primi animali pluricellulari che sono comparsi sulla terra, i più semplici, lo sono anche tutt'oggi più semplici, d'accordo? Quindi abbiamo qui una situazione nella quale a partire dall'origine della terra, qua continuiamo ad aggiungere i nostri eventi, si ha, attenzione, il passaggio alla vita pluricellulare. Poi però ci troviamo relativamente a ridosso del cosiddetto cambriano, cioè l'inizio del paleozoico, detta anche epoca primaria. Il cambriano, stiamo parlando di circa 500, 500, 600, tra i 5 e i 600 milioni di anni fa, è un periodo molto importante nel quale si cominciano a mettere i presupposti per una situazione biologica che può somigliare un po' a quella di oggi. In che senso? Nel senso che fino a quel momento si era avuta la vita fondamentalmente organizzata in cellule, sono organismi unicellulari, mentre nel cambriano che immediatamente successivo al passaggio alla pluricellularità accade una cosa importante, c'è una sorta di esplosione di biodiversità che ovviamente è testimoniata dai tanti fossili che abbiamo a disposizione delle rocce di quest'epoca che ci parlano di un mondo molto molto diverso, ricco di animali, ricco di nuovi vegetali macroscopici e qui per esempio abbiamo le ammoniti e le trilobiti, queste sono le ammoniti e queste sono le trilobiti che sono i classici fossili guida di questo periodo. In geologia quando si parla di fossili guida si parla di un fossile all'interno del quale sono contenuti degli organismi tipici dell'epoca in cui si è formata quella roccia. Bene, le trilobiti e le ammoniti erano organismi molto diffusi in quest'epoca e lo testimonia il fatto che fossili come questi sono molto facili da trovare. Se è un fossile di trilobite, la diffusione di questi fossili ci parla di un mondo nei quali questi animali, questi antenati dei crostaci, degli artropodi, dovevano essere molto diffusi. Qui vedete anche una lastra di marmo, è un calcare, una roccia sedimentaria che viene chiamata rosso ammonitico. Se ne trovano anche in Veneto nella zona dell'Alto Veronese, sono rocce all'interno delle quali si trovano tanti fossili di ammoniti, che erano questi molluschi gasteropodi con la conchiglia a chiocciola, che ci parlano proprio di quest'epoca. Attenzione però, a questo punto accade un'altra cosa. Passano un centinaio di milioni di anni e la vita comincia a conquistare anche le terre emerse. Fino a quel momento le terre emerse erano totalmente, ripeto, totalmente spopolate. La vita era solo una faccenda di tipo acquatico. 500 milioni di anni fa la vita colonizza le terre emerse, ma lo fa anche qui per gradi, piano piano, lentamente e soprattutto mandando come organismi pionieri le piante. Cioè le alghe furono le prime, le generali vegetali provenienti da ambienti acquatici, furono le prime a colonizzare le terre emerse. Però per un organismo vegetale abituato a vivere nell'acqua, insomma, colonizzare la terra emersa non è semplice. Tenete conto che le piante acquatiche, ad esempio, non hanno delle strutture radicali, non hanno delle vere e proprie radici. Le alghe, ad esempio, hanno delle strutture di ancoraggio al fondale che però non servono per prelevare acqua dal terreno, perché le alghe prelevano l'acqua direttamente dall'ambiente acquatico. Quindi c'era bisogno di elaborare delle strutture che fossero in grado di prelevare acqua dal terreno, perché ovviamente in aria non ce n'è, o ce n'è pochissima. Quindi praticamente noi abbiamo che le prime piante che riuscirono a colonizzare le terre emerse sono quelle che oggi vivono in ambienti molto umidi, che hanno un ciclo vitale strettamente legato alla presenza abbondante di acqua e sono le felci e i muschi. I muschi, per esempio, sono stati i primi a colonizzare le terre emerse. Esistono anche altri gruppi un po' più rari, penso ad esempio al gruppo delle epatiche, un gruppo di piante che hanno bisogno di molta acqua. In generale sono organismi vegetali abbastanza rudimentali, con delle radici poco sviluppate, che rappresentano un po' il tre d'union, cioè l'anello di congiunzione tra piante terrestri e piante acquatiche. Tutto questo per dire che poi, lo vedremo, ecco qui possiamo completare, continuare ad aggiungere i nostri eventi, andiamo con l'esplosione di diversità del Cambriano, le piante colonizzano le terre emerse. Ecco qua. E gli animali quando le colonizzano le terre emerse? Beh, lo vedremo nella prossima puntata, diciamo, nella prossima lezione. D'accordo? Quindi grazie di tutto e alla prossima!